Il colore degli abiti o i colori di qualsiasi cosa attorno a te hanno un qualche impatto. Devi capire questo. Come accade il colore innanzitutto? Il motivo per cui questo sembra bianco ora è perché quando la luce ci cade sopra la riflette tutta. Quindi sembra bianco. Il motivo per cui questo sembra rosso ora non è perché sia rosso. È semplicemente che trattiene tutti i colori e riflette solo il rosso. Per questo vedi il rosso. E ciò che è rosso per te può non essere rosso per qualche altra creatura? Se indossi colori davvero sgargianti e vai a metterli davanti al tuo cane lui ti guarderà senza interesse perché non vede nessun colore vede tutto in bianco e nero, lo sai. Non vestirti per lui, ok? Avanti dei cani, intendo. Vestitevi solo di bianco e nero avanti dei cani. Non funziona nient'altro. Non lo impressioni con il rosso, il verde, il blu o altro. Quindi il colore non è quello che è. Il colore è ciò che dà via. Ciò che rifletti sarà il tuo colore. Ciò che trattieni non sarà il tuo colore. Questa è la natura della vita. Non solo del colore. Questa è la natura della vita stessa. Oggi, se irra di amore, la gente ti vedrà come un essere umano amorevole. Se trattieni tutto il tuo amore perché sei una banca dell'amore. Sei pieno d'amore, ma non lo irradi. La gente penserà che tu sia quello. Se irra di gioia, la gente penserà Oh, è una persona gioiosa. Se sei una banca della gioia che trattiene tutta la tua gioia perché vuoi portarla in paradiso. La gente non ti vivrà come un essere umano gioioso. Non è vero? Quello che dai via è sempre la tua qualità. Non è così? Quindi questo non vale solo per un essere umano. Questa è la natura dell'esistenza stessa. Quello che viene buttato fuori è la qualità di quella sostanza. Ora questo riflette tutto. Quindi è bianco. Quello riflette solo il rosso. Quindi è rosso. Quello riflette solo il blu. Quindi è blu. Tutto il resto viene trattenuto. Quello che trattiene non lo vedi. Quello che dà via è ciò che vedi. Quindi in che modo il colore è significativo per la consapevolezza umana in quanto tale o per qualunque tipo di processo spirituale? È significativo nel senso che il colore che rifletti si aggiungerà in modo naturale all'aura che porti. Le persone sul sentiero ascetico non vogliono indossare niente perché non vogliono aggiungere niente di nuovo a se stesse. Vogliono solo lavorare con ciò che hanno. Non vogliono farsi carico di niente più. Ciò che sei ora per risolverlo è un bel impegno. aggiungere ancora una cosa e un'altra è una complicazione. Quindi non vogliono niente. Vanno in giro nudi. Se socialmente è difficile andare in giro nudi si mettono un piccolo perizoma così che socialmente non ci siano problemi. Ma l'idea è che non vogliono farsi carico di niente di più di ciò che sono. sanno che ciò che sono è sostanziale. Ci sono altri aspetti al riguardo. È diverso. Sto parlando del colore. Quindi l'arancione. I chakra nel corpo. Tutti i 114 chakra o piuttosto 112 chakra corrispondono a qualche colore. Due non corrispondono a nessun colore perché la loro natura non è fisica. Tutto ciò che è fisico nell'esistenza naturalmente riflette la luce. Capisci quello che sto dicendo? Tutto ciò che è fisico nell'esistenza riflette la luce. Una volta che riflette la luce avrà un colore nella tua percezione. Potrebbe non avere nessun colore particolare o potrebbe non avere il colore che vedi. Vedi solo ciò che viene riflesso. Quello che vedi è la luce riflessa. Non vedi il colore della sostanza che stai vedendo. Non vedi il colore della cosa che stai vedendo. Stai solo vedendo il colore della luce riflessa. Il nero non riflette niente. Trattiene tutto. Quindi diventa nero. Vedi? Diciamo che l'erba è verde. No, l'erba non è verde. Arrimanda indietro il verde. Quindi la vediamo verde. Il cielo è blu. No, no, no. Il cielo non è blu. Va lassù e guarda. Non c'è blu là fuori. Il cielo è blu per una ragione completamente diversa. Perché la qualità di rifrazione del colore blu è diversa dagli altri colori. Ecco perché il cielo è blu. Quindi perché per diversi tipi di processi spirituali usiamo diversi tipi di colore? Coloro che sono su un cammino in cui non vogliono accumulare niente indosseranno il bianco. Coloro che praticano un altro tipo di sadhana se la loro sadhana è moderata sono sul sentiero spirituale ma sono coinvolti con vari aspetti della vita non vogliono accumulare vita intorno a sé vogliono partecipare alla vita ma non vogliono accumulare niente queste persone sceglieranno di vestirsi di bianco. Le persone che fanno una sadhana più intensa diretta verso un particolare chakra nel corpo conosciuto come Agna in mezzo alle sopracciglia si vestiranno di arancione perché il colore di quel chakra è arancione. Vogliono irradiare quel colore perché l'intero processo riguarda l'illuminazione e arrivare a quello stato di conoscenza. aprendo quella dimensione di percezione che viene chiamata a terzo occhio quindi cercheranno sempre il colore ocra o arancione perché quello è il colore dell'Agna. Le tuniche gialle erano indossate dai monaci buddhisti perché il processo che Gautama dava allo stadio iniziale del monaco buddhista era molto rudimentale scelse questo processo per la gente perché non necessita alcuna preparazione ma vuole causare un'onda di consapevolezza cioè che non rimane in nessuna città per più di un giorno si muove continuamente di villaggio in villaggio di città in città non c'è tempo per preparare le persone ad alcun tipo di pratica quindi la pratica che dà loro è molto rudimentale ma comunque li converte al monachesimo sistema la loro vita ma non dà loro sufficienti passi preparatori per questo diceva loro di indossare la tunica gialla perché il giallo è il colore del muladhara il chakra più basilare nel corpo è il muladhara quindi vuole che siano stabili per un monaco la cosa più importante è che pratichi la stabilità nella sua vita vuole semplicemente che siano stabili non dovevano volar via in esperienze di beatitudine non devono ottenere l'illuminazione subito né arrivare da nessuna parte devono solo imparare a essere stabili perché sta preparando dei soldati per scuotere il mondo con la consapevolezza perciò disse loro di indossare tuniche gialle e tardi quando raggiungevano quello che lui chiamava Aratz gli Aratz nella tradizione buddista idossavano tuniche ocra cioè arancione come erano tutti i saniasi indiani ma dopo che Gautama morì quando cercarono di diffondere lo stile di vita buddista in India almeno il 30% della popolazione era costituito da saniasi o monaci per natura era così proprio per cultura così questo ulteriore gruppo di monaci li accettò e ne divennero come parte non riuscirono a mantenere un'identità distinta quindi dall'Ocra passarono a un colore un po' più marroncino più per motivi di identità perché si mischiavano con tutti gli altri yogi e monaci che camminavano ovunque volevano creare un'identità distinta quindi passarono a un colore tendente al marrone più tardi ma il colore buddista fondamentale è tuttora il giallo perché il giallo è il colore del muladhara e può essere insegnato senza preparazione nessuna preparazione nessun insegnamento niente un semplice processo per stabilizzare e stabilizzare e stabilizzare un tale processo viene insegnato quando tracci un percorso spirituale per alcune vite vedi quella tradizione continua ancora nello stile di vita buddista continuano a tornare e tornare per fare altro lavoro e altro lavoro perché il processo è così di stabilizzazione non di realizzazione ecco il perché del giallo Devi è sempre rossa perché il rosso è il colore più vibrante di tutti i colori il rosso è il più vibrante e il femminile rappresenta ciò che ti piaccia o no c'è un desiderio nella donna a essere come un fiore perché la natura le ha dato quella possibilità c'è una certa qualità nel femminile che è floreale per questo quando diciamo un fiore la prima cosa che viene in mente alla maggioranza delle persone è sempre il rosso un fiore rosso è sempre il vero fiore altre cose sono in arrivo il rosso è vibrante è il colore della viva città Devi la forma femminile del divino è la forma più vibrante di divino qualcosa che nessuno può mancare è il motivo per cui anche se ci sono altri trempli più grandi in ogni villaggio in ogni città in India costruiamo un tempio a Devi se entri nel tempio di Devi lei ti colpisce in pieno non puoi mancarla perché è vibrante il colore della vivacità è sempre rosso non importa che tipo di persona sei se ti presenti vestito tutto di rosso immediatamente la gente penserà che sei vibrante anche se non lo sei sì o no? un vestito rosso ti fa apparire immediatamente vibrante e per fare un certo tipo di sadhana rivolta alla Devi il rosso è necessario le cose più importanti nella tua vita solitamente sono rosse sai il tuo sangue è rosso se non è abbastanza rosso vai giù sai i fiori sono rossi il sole che sorge può diventare tendente al rosso ogni cosa che consideri intensamente viva tendi a dipingerla in rosso perché c'è un legame tra il rosso e la vivacità e Devi è una manifestazione della vivacità che non puoi mancare quindi i templi di Devi hanno sempre un coinvolgimento molto attivo del rosso in molti modi vengono usati solo fiori rossi il sangue viene versato ovunque noi non facciamo traffici di sangue ma in un modo o nell'altro serve versare molta vita o devi sapere come versare la tua vita così senza ucciderti se non conosci la tecnologia devi uccidere noi conosciamo la tecnologia quindi non uccidiamo altre persone che non conoscono la tecnologia per versare la vita senza uccidere il corpo taglieranno il corpo maggior parte dei templi della Devi fanno sacrifici giornalieri quindi i colori hanno un certo impatto questo sicuramente influenza alcune cose ma non è tutto diccia ma non sono diccia ma non è tutto ma non è tutto mi påse cosa è proprio